Oh, ma hai visto una particola di qualche inside? Davvero? È un po' il sapriato. Mh, bellissimo. Eh? Dove? Qualche inside? Non lo conosci? No. Io spero che tu veramente stia scherzando. No. Vabbè, glielo facciamo vedere. Andiamo, va. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Sì, è stato incredibile. Iscriviti ai canali. E metti like. Non lo faccio solito, nessun problema. Yeah. E tu iscriviti anche ai nostri canali YouTube, Instagram, Facebook e non perderti anche dal video. Grazie. E tu iscriviti ai canali. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ciao. Sì, grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.